I decessi odierni contano 11 vittime da coronavirus nelle Marche, 6 donne e 5 uomini morti. Il più giovane aveva 43 anni, mentre il più anziano aveva 89, tutti con patologie pregresse. Il totale aumenta a 845 decessi da inizio emergenza. Nella provincia di Pesero Urbino si contano 461 vittime. Sono 51 i tamponi positivi su 1.084 processati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Gores. Il totale dei positivi sale a 5.877 su 29.090 test effettuati dall'inizio dell'emergenza. Le persone dimesse guarite da coronavirus nelle Marche salgono nelle ultime 24 ore a 1.825 da 1.792 del giorno precedente, mentre i ricoverati complessivi calano a 862 rispetto agli 872 del precedente aggiornamento. Scende il numero dei ricoverati per covid-19 in terapia intensiva da 80 a 78 e in semi-intensiva da 188 a 181. I degenti in area post-critica sono 231, 232 il giorno precedente e 372 invariati quelli in reparti non intensivi. Attualmente sono 2.536 le persone in isolamento domiciliare. Sono invece 7.811 quelle isolati in casa, 24.951 complessivamente dall'inizio dell'epidemia. Dopo essere venuti in contatto con persone positive, 3.557 presentano sintomi, tra cui 1.281 operatori sanitari. I casi positivi nella provincia di Peser Urbino sono in testa con 2.347, segue Ancona con 1.760, Macerata con 932, Fermo 395, Ascoli Piceno 271, 172 extra regione. Nelle Marche è arrivata nel pomeriggio una task force sanitaria di 58 infermieri albanesi per rinforzare la capacità assistenziale sul territorio, in particolare nelle strutture residenziali e nelle case di riposo. La squadra di infermieri, che per la maggior parte parla italiano, è stata suddivisa tra le cinque aree vaste.